ciao a tutti per moto festival oggi ho il piacere di intervistare niente meno che emanuele pirro ciao emanuele ciao nico ciao a tutti posso dire che sono orgogliosissimo perché la mia passione per le moto è sconfinata e stare qui nella redazione in qualche modo venire come dire accettato dal mondo delle moto mi dà un sacco di piacere perciò grazie noi ti accettiamo volentierissimo perché emanuele pirro che sulle auto ha fatto una grandissima carriera perché ha corso tre stagioni in formula 1 poi è passato ha fatto tutto è per cui ha cominciato con carta da ragazzino è arrivato soprattutto all'endurance ti ricordo in particolare per le sue vittorie alla 24 ore di le mani ne fate 5 non credo che altri italiani possano vantare eccolo e non solo perché poi ne vinte tante altre di endurance per dieci anni corso con audi quindi le macchine più strepitose la prima diesel hai fatto un sacco di imprese e soprattutto la cosa che tengo particolarmente è un motociclista anche ed è uno specialista che si occupa a fondo anche della sicurezza è tutto vero sì 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 no è tutto vero più che della sicurezza diciamo ricopro un po di ruoli nella governance del motosport perché quando ho cominciato a correre avevo una passione enorme però il mio così il mio piano era di fare un po di anni e poi smettere fare qualcosa di concreto nella vita perché secondo me correre in macchina era era troppo bello per per essere classificato come concreto invece non ho fatto i conti con la mia passione sconfinata e una volta smesso nel 2009 mi sono trovato ad avere una serie di incarichi nella federazione specialmente internazionale e chiaramente oggi la sicurezza è una delle cose più importanti e proprio lì ti vorrò perché voglio proprio servirmi della tua esperienza per capire fino a che punto moto e auto possono convivere e tu vedi le prospettive delle automobili ma conosci bene anche la moto quindi quello sarà un tema che svilupperemo però io partirei dalla formula 1 la cui sei partito diciamo così a livello di grande notorietà del pubblico e fatto tre stagioni soddisfazioni rimpianti c'è qualcosa rimpianti è una parola che non fa parte del mio vocabolario io credo nella meritocrazia e rimpianti significa che uno può aver fatto una scelta sbagliata però se l'ha fatta l'ha fatta perciò io guardo diciamo nello specchietto retrovisore solo per imparare e magari non ripetere lo stesso sbaglio ti potrei fare un elenco sconfinato di situazioni in cui sarebbe arrivato il risultato però però no sono veramente contento di tutta la carriera che ho fatto la formula 1 è stata una piccola una piccola parte come detto ho fatto tanti anni con le macchine con le ruote coperte prendendomi tante soddisfazioni poi nell'endurance però l'obiettivo mio quando ero un bambino era di correre in macchina cioè il mio sogno non usavo pensare alla formula di correre in macchina e l'ho fatto dal 1973 che era in go kart poi 80 fino fino al 2010 perciò sono proprio contento e ho fatto delle corse della mia vita e sono contento niente rimpianti direi ecco io vorrei andare sull'endurance perché emanuele pirro ha vinto tra le altre cose cinque edizioni della 24 ore delle mani una gara che peraltro anche io conosco sulle due ruote una gara che a me personalmente ha dato sempre tantissimo non sono mai riuscito a vincere naturalmente invece tu l'hai vita e come che cosa era per te l'endurance e qual era la soddisfazione che provavi guarda quando uno giovane non so se stato anche il tuo caso comincia a correre secondo me non guarda l'endurance perché è uno sport individuale vuoi andare l'essenza delle corsi è andare più forte possibile prevalere sugli altri gare brevi brevi perciò io ho cominciato volevo arrivare in formula 1 poi la vita chiaramente va avanti le persone si evolvono e capisci che le gare endurance sono meglio peggio non voglio dire però sono una parte sono bellissime perché c'è una convivenza ancora più profonda con altre persone pure le gare singole sono uno sport di team perché noi erroneamente siamo classificati come sport singolo ma sappiamo bene che dietro una macchina una moto c'è un team di persone con cui il pilota deve e vuole convivere e sono fondamentali per il successo però quando poi devi dividere una moto una macchina con con altre due persone il gioco diventa più interessante perché è una specie è un gioco di dare avere non puoi più fare la prima donna come si dice l'anello la catena è forte per quanto è forte il suo anello più debole perciò se c'è uno che è un po più debole in qualche modo lo deve mettere in condizioni magari con un setup più vicino alle sue alle sue esigenze di andar bene e quando vado alle ma spesso penso alla 24 ore di moto perché uno pensa sempre che le cose che non sa fare sono più difficili impossibili e credo che la 24 ore di moto deve essere qualche cosa di pazzesco anche nella gestione delle risorse delle risorse fisiche circuito bugatti chiaramente per noi è piccolino però è una bella pista con questi bei curvoni ci ho corso in formula 3000 e ho sempre pensato mi piacerebbe tanto vedere una 24 ore di moto e poi credo che la cosa che che abbiamo in comune che è bella della 24 ore è che il fisico non solo dei piloti ma di tutti compresi gli spettatori compresi i commissari viene viene portato al limite perciò tu domenica sera hai dato tutto e quella la soddisfazione ultima che tutti hanno ai tempi miei le 24 ore si faceva in moto in due soltanto e va beh era ancora più tosta però ecco ti posso dire qual era per me il momento più bello l'alba era bello certo finita la notte quando cominci a rivedere le cose bellissimo ma il momento più bello era l'ultima ora quando tutti a meno con le moto evitavano di spremere una meccanica che era già arrivata quasi al limite e quindi non tiravano tutti i giri tu sentivi queste questi suono completamente diverso dei motori con dei cambi di marcia lenti e lì assaporati proprio quello che vuol dire la sintonia tra te e il mezzo meccanico perché tutti e due eravamo questo 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 mi piace e io non l'ho vissuto questo periodo anche se ho fatto una 24 ore con la lancia beta monte carlo turma 81 quando il mezzo meccanico andava veramente rispettato perché nell'era moderna tu vai al tuo massimo se la macchina si rompe non è colpa del pilota perché non puoi fare niente di sbagliato però la la meccanica mi è sempre piaciuta cioè io mi smonto chiaro che non è così ma le considero quasi umane mi fanno pena le i mezzi meccanici perciò mi immagini in moto dove tu sei molto più in simbiosi la senti senti le vibrazioni mi immagino questo questo portare diciamo a fare l'ultimo miglio in sicurezza bello 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 senti un trade union tra auto e moto a proposito di 24 anni viene in mente valentino rossi e dopo la sua 26 27 anni di carriera si è buttato sulle sulle sui prototipi sulle auto a ruote coperte e ha fatto anche le 24 ore ecco a 48 anni tu hai smesso lui è più giovane quindi non è nemmeno vecchio per fare quello che sta facendo anzi però così 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 da una parte sono contento che ha continuato a correre in moto perché perché valentino è un orgoglio nazionale sarebbe stato un peccato se avesse deviato senza portare a compimento questa splendida carriera lo dico da appassionato però io ho sempre pensato che i motociclisti devono avere qualcosa in più perché la sensibilità che deve avere un motociclista forse è superiore a quella di una di un pilota di auto per questo io vi ammiro così tanto e perciò un fuoriclasse come valentino secondo me se ad un'età giusta avesse cambiato sarebbe diventato un fuoriclasse anche nelle due nelle quattro ruote c'è stato un momento senza dubbio era vicino alla formula 1 senza poi cominciare con la ferrari di formula 1 sarebbe stato facile però poi arriva a un certo punto e questo l'ho vissuto e probabilmente anche te però te lo chiedo tu vai avanti e le prestazioni rimangono diciamo uguali però perché tu una cosa la sai fare bene però perdi quella quella capacità di imparare vai quasi per inerzia poi a un certo punto quest'inerzia non basta più e inizia un po un degrado e invece tu se vuoi fare un qualcosa di tanto nuovo devi essere come una spugna giovane perciò oltre una certa età secondo me fai fatica a cambiare come mi sta succedendo con le moto perché ho debuttato a lì stavo arrivando perché avrei fatto 500 gare in auto ma è fatta anche almeno una moto che io sappia sì 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 a goodwood è così racconta così no sono io credo di essere una persona abbastanza modesta no no cioè non uno sbruffone almeno spero però di questa cosa sono tanto orgoglioso perché la ho sempre visto la moto come una cosa molto difficile andare in pista in moto infatti non ci sono andato per tanto tempo io a 18 anni avevo una suzuki katana che era una gran bella moto 1100 1100 sì 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 però in pista non non sono mai andato perché ho pensato essendo una persona competitiva come fai a sentire il limite in moto poi ho capito delle cose dopo lo capisci solo cascando e allora è meglio che non vado poi al è capitato di andare in moto al vdv con l'audi una decina d'anni fa con la panigale e mi sono trovato bene intanto il limite lo capisci il limite insomma perché la moto si muove cioè non è che vai per terra da zero a vai per terra e poi tante similitudini con la macchina traiettori equilibrio proprio mi è piaciuto e mi sono detto ma perché non ho cominciato prima poi goodwood allora io ho fatto macau tante volte con la macchina e macau viene corso anche dai motociclisti mi ricordo ho visto ron aslam ho visto kevin schwanz vincere michael ratter tante volte e loro li vedevo proprio come dei supereroi perché macau già in macchina era tostissima e loro erano i road racers a parte qualche apparizione tipo di kevin schwanz ma se no erano tutti i road racers quelli quelli della tt poi sono ho corsa a goodwood praticamente da da sempre e c'è sempre una gara di motociclisti allora io andavo lì a sniffare così e piano piano sono diventato anche amico perché poi motociclisti sono carini molto meno snob di noi automobilisti perciò sono diventato amico praticamente di tutti e fino a che uno mi ha chiesto ma perché non provi e allora mi hanno affidato una yamaha tz 250 del 1984 e una due tempi difficile goodwood è una pista che non perdona perché non puoi cadere lì perché ci sono i terrapieni però non so se più la sfida è difficile e più ti va di farla questa è una cosa io se c'è le scale l'ascensore prendo sempre le scale strada diritto a strada con le curve io prendo le curve e l'ho vista come una cosa così difficile che dico lo devo fare e ho fatto questa gara combattendo a casa contro mia moglie che pensava che stessi andando in guerra veramente io penso che una famiglia un volontario che va in guerra a meno stracismo da parte della famiglia e l'ho portato a termine eravamo in 32 sono arrivato pure sedicesimo perciò tutto sommato non era male e sai quando questo equilibrio poi le moto dal gran premio specialmente le 250 sono leggerissime rigidissime insomma è stato uno dei giorni più belli della mia vita ma mi tremavano le gambe cioè quando io stavo lì per partire mi tremavano le gambe hai scelto una moto molto impegnativa che poi erogazione appuntita Michael Rutter era il mio compagno di squadra altro orgoglio e lui perché lì era massimo 352 tempi o 754 tempi e lui aveva una 750 e lui mi ha detto questa è la moto più difficile che io ho mai guidato ecco bene grazie senti ma per la moto intanto voglio sapere la scintilla quando è scoccata per i motori in genere e se è scoccata prima per l'auto immagino di sì o per la moto parliamo del 1962 quando sono nato perciò le informazioni erano molto diverse da quelle che abbiamo adesso però mio papà mi metteva sempre in braccio cioè la passione per le macchine ce l'ho sempre avuta poi noi avevamo una campagna e mi è stata regalata quella che oggi si chiama pit bike a sei anni e per me la moto era a sei anni era libertà equilibrio io mi ricordo che potevo andavo e non mi serve nient'altro ero il bambino più felice del mondo perciò in qualche modo mi viene da dire che sono cresciuto in moto poi le macchine mi hanno stregato ho conosciuto il go kart e sinceramente non ho mai pensato di correre in moto però come si dice lo sweet spot ce l'ho sempre avuto e ho sempre reputato i motociclisti dei supereroi perciò mi sono sempre forse indegnamente sentito vicino perciò tutte le volte che allora quest'anno a Goodwood non la gara che è il revival ma quella che si fa in salita perciò l'evento che si fa a luglio ci sono i motociclisti perciò tu nella strada di accesso tu lo saprai ma insomma lo dico a chi ci ascolta di questo castello che è circa un paio di chilometri le supercar le macchine storiche e le moto vanno su a gruppetti per far vedere e c'è un gruppo di motociclisti con ago tutti i campioni del mondo della 500 e che sono tutti amici e Kevin Schwanz che è un caro amico si era rotto un braccio e io vado sempre da loro così a parlarci e Kevin quest'anno mi ha detto senti ma se tu entri nella mia tuta di pelle ti faccio guidare la mia moto perché c'era la sua 500 Suzuki Pepsi Cola Entravi sicuro perché sei più magro di lui Ci sono entrato e io ho fatto questa salita che non è competitiva però è sempre una 500 da Gran Premio con Freddy Spencer, Randy Mamola, Ago, Roberts tutti per un appassionato è stato veramente un sogno Bellissimo, e appunto come dicevi in apertura quando tu hai smesso di correre sei stato o tirato dentro o comunque volentieri ti sei prestato sei entrato in tante commissioni, piloti, circuiti e in questo momento tra le altre cose ti occupi anche di sicurezza hai lavorato anche con Uncini, in particolare credo che tu adesso mi confermerai avete lavorato insieme sull'omologazione delle piste per esempio allora mi chiedo una volta quando ero giovane io quando correvo era impossibile convivere perché le esigenze erano completamente diverse oggi invece siamo arrivati ad una convivenza mi sembra adesso tu mi confermerai per fortuna per fortuna e però c'è questo aspetto che naturalmente tanto spazio asfaltato intorno su molte piste nuove chiaramente pone il problema degli sconfinamenti e di come sanzionarli, di come regolare quello che noi chiamiamo track limit i track limit mi pare che tu sei proprio nella commissione specifica allora sulle moto questa cosa dà fastidio soprattutto agli appassionati e poi c'è sempre il sospetto che questa sanzione sia stata data dal panel in maniera arbitraria a questo di più o a questo di meno e soprattutto arriva gente addirittura a dire questo è clamoroso secondo me dobbiamo ritornare alla ghiaia e al prato cosa che secondo me è una bestemmia perché questa sicurezza che abbiamo acquisito anche se ha delle controindicazioni difficili da gestire ma tuttavia il livello è finalmente molto alto sì, il livello è alto devo dire una cosa un po' di rimpianto dei tempi guarda io sono l'ultimo che dice i tempi passati erano meglio no, per me è tutto meglio adesso i piloti sono più bravi perciò lo dico con convinzione però diciamo il concetto di rispetto del limite e di abilità di un campione due o quattro ruote di guidare il più vicino possibile al limite senza mai superarlo adesso non esiste più perché gli errori piccoli neanche ti costano in termini di tempo a meno che non prendi un track limit e prendi una penalizzazione chiaramente questo fa sì che i piloti sopravvivono per tutta la carriera c'è una longevità enorme però ecco in qualche modo e anche in moto lo dico da esterno da spettatore vedere nei Gran Premi quasi tutti i piloti che si stendono almeno una volta per cercare il limite insomma mi piacerebbe che riuscissero a fermarsi un po' prima però è chiaro che se tu hai un beneficio di sicurezza te ne approfitti e allora lì sta poi nel cadere come Marquez faceva tante volte nelle prove e non quando conta pure quella abilità la convivenza è troppo importante perché la gestione di un circuito da un punto di vista proprio di business non puoi avere solo concentrarti sulle moto sulle macchine perché poi non è il Gran Premio e l'altro Gran Premio sono tante altre manifestazioni sono anche tutte le manifestazioni perciò e si è cominciato con Michael Masi che era il vecchio direttore di gara di Formula 1 e Franconcini quando era nella commissione sicurezza di cercare finalmente una convergenza e diciamo accettando qualche compromesso però finalmente finalmente cercando di convergere però i track limits in macchina adesso si ritorna alla ghiaia però dopo quel metro di asfalto verde che serve ai motociclisti a noi non servirebbe questa zona calpestabile dopo il cordolo secondo noi a oggi noi preferiamo un limite fisico piuttosto che l'arbitro che fischia quindi la ghiaia rallenta la velocità la ghiaia tu ci vai se ti sbagli invece se tu hai una zona calpestabile con l'asfalto ci vai tieni giù il gas perché adesso poi nessuno vuole alzare il piede quando sbaglia un po' però sai la ghiaia per noi è pericolosa è certo ti rendi conto quindi dove si può arrivare secondo te e quale credi che possa essere il traguardo della sicurezza dei prossimi anni? se vai ad analizzare ogni tipologia di curva alle sue specifiche però secondo me il lavoro che va fatto adesso diciamo la sicurezza attiva cioè proteggere un pilota di moto o di macchine dopo che è successo un incidente cioè durante un incidente in caso di incidente è ad altissimi livelli si può sempre fare meglio però ad altissimi livelli la sicurezza attiva cioè il prevenire che questo incidente avvenga si sta deteriorando perché con tanta sicurezza si osa molto di più in moto l'abbiamo detto in macchine ancora di più si fanno un sacco di incidenti safety car eccetera perciò secondo me il prossimo impegno forte questo da parte mia come presidente della commissione monoposto della FIA lo sto già diciamo perseguendo è di evitare il più possibile che gli incidenti accadano cercando di essere più severi nel fischiare il fallo diciamo perché adesso c'è un'anarchia i ragazzi sono così giovani un po' come nella moto 3 la moto 3 è diventata una categoria pericolosa perché non hanno paura perché sono tutti uguali stanno tutti vicino è veramente difficile purtroppo ci vuole un arbitro è brutto dirlo ma noi non abbiamo la cultura dell'arbitro nel nostro sport come in altri che sono nati con questo fino a prima il rischio il pericolo il buonsenso e forse la competitività la malizia leggermente inferiore nell'attacco e nella difesa che c'era prima bastavano adesso serve una terza persona che dica questo si può fare e questo non si può fare perché te le giochi sulla frazione di secondo le cose tu hai fatto anche lo Stuart sì per la Formula 1 è stato difficile è un ruolo difficile sicuro è difficile perché è male mal capito tu sei sempre il cattivo che penalizzi uno specialmente quando hai il beniamino mi ricordo una penalizzazione a Sebastian Vettel che uscì di pista e rientrò tagliando la strada a Hamilton che è stato sono dovuto andare dalla polizia per le minacce che ho avuto però però il senso di giustizia viene percepito male da casa cioè se uno fa un qualcosa che non va fatta se non penalizzi quello penalizzi tutti gli altri cioè se non fischi un fuorigioco magari sei stato carino nei confronti di quel calciatore ma hai fatto un torto all'altra squadra a tutti gli altri purtroppo è così però non si vince mai cioè far l'arbitro non vinci mai e è brutto penalizzare perché fa male quella fattispecie Vettel guidava la Ferrari è un carissimo ragazzo aveva bisogno di una vittoria cioè fa male però il senso del dovere della giustizia è più forte di tutti gli altri decisioni pesanti qualche volta senti prima si parlava di road races e tu mi hai detto che hai conosciuto diversi piloti ora c'è un tema oggi quello delle road races perché in Italia sono vietate quelle di moto in linea all'estero invece ci sono dappertutto recentemente in Germania purtroppo hai visto è morto Luca Salvadori e così c'è l'Irlanda c'è l'Inghilterra ora è difficile sono temi molto difficili perché la libertà individuale di andare a fare quello che si vuole anche la sfida è estrema se uno vuole voglio dire se uno si vuole tuffare dalla cima del cristallo con con la tuta alare e sfiorare le rocce nessuno glielo può impedire però farci una gara proprio lì che devi sfiorare di più la roccia ecco io quella non la farei non pensi che si possa intervenire come minimo nel limitare le potenze cercare di ridurre le velocità medie c'è qualcosa che si può fare secondo te allora in qualsiasi tema intanto grazie della domanda che è interessante vorrei dare un abbraccio a Maurizio Salvatori perché questa tragedia ha colpito tutti quanti noi è un argomento delicatissimo però noi viviamo in un periodo storico in cui la vita umana non è mai stata così importante noi questo dobbiamo dirlo negli anni 60 70 moriva un pilota si piangeva il pilota la corsa andava avanti e non veniva puntato il dito sulla pericolosità del nostro sport oltretutto e questa è una cosa che non mi piace una vita non ha lo stesso peso faccio un paragone il ciclismo che è uno sport magnifico purtroppo è diventato sempre più pericoloso sia in gara che non in gara tante persone perdono la vita in bicicletta però io non ho mai sentito uno dire è una pazzia fare un tour de France è una pazzia fare la discesa si piange questo povero disgraziato che è morto e non si punta il dito sullo sport noi adesso siamo diventati paradossalmente uno sport sicuro che non si può permetterne anche una perdita di vita parlavamo dei road racers io mi sento tanto vicino a loro a Goodwood quest'anno ho cenato con Michael Dunlop che è stato che ha appena battuto il record e ha una storia sappiamo lo zio il papà morti John McGuinness è un caro amico che saluto io li ammiro perché è forse l'ultima nicchia del motosport veramente veramente pericoloso come era negli anni 70 è giusto non è giusto nessuno li obbliga e quando dicono i motociclisti sono pazzi io mi arrabbio perché lo vedo come un insulto i motociclisti loro sono coraggiosi non sono pazzi hanno famiglia hanno figli hanno mogli ragazze sanno bene quanto rischiano nonostante tutto decidono di farlo perciò secondo me lavorare su una sicurezza per esempio le potenze in tutto anche in macchina siamo andati sempre più veloci e secondo me si può produrre un motosport bello interessante senza andare più bassa noi guardiamo le gare degli anni 70 80 erano bellissime in formula 1 davano l'impressione della difficoltà e le macchine andavano più piano delle formula 3D adesso perciò quello sì però proibire le gare io ho cominciato a correre io avrei fatto un patto col diavolo veramente se mi avessero detto tu puoi arrivare in formula 1 e poi morirà io l'avrei fatto sono discorsi delicati da ragazzo però ecco che un terzo possa dire a una persona gli sport estremi Red Bull ha inventato una categoria di sport estremi e poi noi vediamo online dei filmati bellissimi quanta gente non ce l'ha fatta però se muore un bass jumper che non conosce nessuno non se ne accorge nessuno e poi è un discorso delicato io però mi sento di chiuderlo così Emanuele io rispetto rispetto sicuramente i Road Racer perché hanno fatto una scelta consapevoli però chiedo lo stesso rispetto per chi come te e come me ci siamo battuti per la sicurezza degli impianti perché ok sono due cose differenti però concludere che quelle delle Road Racer sono le uniche vere gare e quelle sono i veri piloti e la sicurezza delle piste no no non è certamente quello che dici tu però quello che sento in giro spesso è questo quelle sono le vere gare quelli sono i veri piloti invece rispetto per la battaglia che anche tu hai fatto per la sicurezza delle piste secondo me ci vuole non è vero che sono i veri piloti fanno un'altra cosa esatto e purtroppo è difficile per il nostro sport in moto è meno difficile perché il gesto tecnico si vede meglio che in macchina però percepire la bravura adesso noi abbiamo un dualismo che poi non è neanche un dualismo perché si rispettano e si vogliono anche bene chiaramente parlo di Bagnaia e Martini di Bagnaia e Martini perciò è già un po' zoppo rispetto a come siamo abituati noi dei due campioni che si odiano però hanno un livello tecnico secondo me straordinario ma è difficile percepirlo quello lì se tu corri e non voglio dire che è meglio però il Road Racer che vedi che ogni curva rischia la vita da casa lo ammiri lo ammiri di più però non possiamo negare che una parte della storia del nostro sport è stata scritta con il sangue del libro della fama del nostro sport è stata scritta con il sangue di tante persone che non sono sopravvissute e se fosse stato sempre sicuro a zero è brutale quello che dico a zero incidenti forse la figura del pilota sarebbe stata vista in un altro modo bisogna essere onesto secondo me grazie Emanuele per chiudere io so che la tua famiglia vive di motosport perché hai due figli maschi e sono anche loro impegnatissimi non come piloti magari magari volevano fare i piloti sì volevano volevano però non lo voglio dire ma la mia scelta è stata un po' un po' egoistica farcela farcela significa rendere questo rendere lo sport il tuo lavoro è veramente complicato e capire quanto uno è bravo da bambino è difficile io e mia moglie abbiamo pensato indirizziamoli verso lo studio hanno studiato sono diventati ingegneri tutti e due uno è ingegnere in formula 1 l'altro è ingegnere nella prema perciò stanno facendo la loro carriera con un sacco di rimpianti perché ogni tanto quando facciamo una garetta insieme mi vogliono far vedere che lo sapevano fare lo sanno fare e ho anche ammirato il coraggio forse l'incoscienza di mio papà che invece mi ha detto prendi la maturità scientifica e poi provaci io non sono stato così così bravo e coraggioso vedi anche per me maturità scientifica poi mollo tutto mi sono iscritto all'università anch'io tipo? che facoltà? ingegneria e io scienze politiche mi sono iscritto perché ero mezzo anno avanti con la scuola ho detto faccio il primo anno se vedo che c'è una possibilità se no ritorno a scuola ho vinto il campionato di formula Fiat Tab il primo anno però mi è sempre piaciuta l'ingegneria infatti sono orgoglioso che i miei figli sono ingegneri eh sì è un bel orgoglio Emanuele grazie mille è stato un piacere ospitarti al Moto Festival e voglio sperare che ci saranno anche tante altre occasioni in cui magari che sa andremo in moto insieme per esempio sarebbe un sogno sarebbe un sogno adesso lo dico sembra banale però Niccoli Reghini è un gran venito e io non sapete quanto sono orgoglioso di stare qui a parlare con te grazie grazie Emanuele grazie a voi grazie a voi grazie a voi